ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo episodio, lo dico è già il terzo state andando benissimo siete andati una bomba sotto l'ultimo video 16 live ed eccoci qua nel terzo episodio appunto della carriera negatore di Dani ed ecco a voi i gol che ho portato con voi e con me per voi, spero vi piaccia e che dire, mettete un gioco, commentate e vi lascio al video, buona visione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti